Oggi ho rappresentato dal Ministro Gentiloni la posizione della Lega sulla situazione in Libia. Noi riteniamo che non si possa perdere altro tempo perché la situazione si è incancrenita e rischiamo che l'ISIS avanzi e conquisti nuovi territori, oltre naturalmente ad avvicinarsi all'Europa e questo diventa molto pericoloso. L'ISIS vuol dire anche traffico di esseri umani, quindi vuol dire più clandestini nel nostro paese e in tutta l'Europa. È necessario che una decisione venga presa al più presto e che questa decisione comporti innanzitutto un controllo delle coste e poi la messa in sicurezza di tutto il paese. Crediamo che le forze occidentali e i paesi occidentali debbano impegnarsi subito per ottenere questi risultati.